Ben rientrati amici di Match Music, siete sempre su Indaus, l'unico programma che vi permette di proporvi a tutti i nostri ascoltatori per cui come avrete intuito siamo arrivati al nostro nuovo appuntamento col Mashup, quindi tutti i lavori che voi ci inviate alla casella email indaus at matchmusic.it e questa settimana la nostra redazione ha pescato nuovamente in terra sarda Sì, perché è il momento di Alessio, 21 anni di Tempio Pausania in provincia di Olbia Tempio e con le province stiamo attenti perché sennò dal web ci bacchetta Lui in arte diventa Alex Beta DJ e Alessio ha mischiato One degli Swedish House Mafia con la cappella di Magic Touch di Corona Tutto questo diventa Swedish House Mafia vs Corona, The Magic One Alex Beta Touch Mashup E' la sua casa Che c'è ilображino Unice a motivati in particolare E' la sua casa ma deve essere sul tempo Questo è il momento di più deve essere delineato C'è la sua casa ma deve essere delineato La sua casa ma deve essere delineato Levo aقة C'è il nostro paese Il rimanezare l'organizzazione Il morgo è più delicato Ilá educa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.